Buongiorno 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 Ehi cugino! Cugina Daisy e zio Jesse ci stanno aspettando a casa Ottimo! Forse è meglio andare Andiamo! Ehi Luke! Come si chiama tuo cugino? Bo! No! Come si chiama tuo cugino? Bu! Come si chiama tuo cugino? Bo! Figliolo come ti chiami? Bo! Che giornata! Già! Sembra tutto tranquillo qui in autostrada! Mhm! John! Hai visto quanto andava quello? Certo Poncho! Andava da almeno 80 miglia! Almeno! Inseguiamolo! Buona idea! E che diavolo succede Poncho? Quanto diavolo le fanno strette queste tute? Lascia fare a me! Dannazione! Vuoi una mano John? No! No! Ce la faccio! Che poi! Poveraccio! Bisogna anche vedere perché correva! Magari avrà avuto un'emergenza no Poncho? Eh! Magari i figli da andare a prendere a judo! E chi siamo noi per dirgli qualcosa? Esatto! Chi siamo! Anzi! Ti va un caffè? Un caffè è un'ottima idea! Ha 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 Ha! Ha 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 Kid! Sono Michael. Vieni a prendermi! Eccomi Michael! Kid! Andiamo via presto! Non posso muovermi. Perché, Kit? Ci tengono sotto tiro. No, non posso circolare. C'è il blocco dell'Euro 2. Vabbè, allora resta qua. Pigli un car sharing. Stami bene, Kit. Manium. Manium? No, maxi ball. No, maxi ball.